Ciao Francesco, ti salutiamo tutti così, con affetto e nel rispetto della tua persona. Tutti quelli che ti abbiamo conosciuto sappiamo perfettamente quanto è grande questo dolore che insieme alla tua famiglia condividiamo. Perché, caro Francesco, sei sempre stato una persona per bene, un signore, disponibile nei confronti di tutti e particolarmente anche dei pazienti del reparto dove tu lavoravi, in ospedale. Una persona sorridente, una persona gentile, un amico speciale e tutti quelli che ti hanno conosciuto si sono stretti attorno alla famiglia per esprimere il proprio dolore. Quel dolore condiviso da amici, amiche, da pazienti dell'ospedale, dai medici, dai tuoi colleghi, da tutte quelle persone insomma che ti hanno conosciuto. Pensiero comune, abbiamo perso un amico speciale, abbiamo perso una persona che ha sempre dato il meglio di se stesso e anche nei rapporti amicali è sempre stato una persona che ha voluto far capire che cos'era per lui l'amicizia, un sentimento importante, un sentimento a cui non voleva rinunciare. La tua famiglia è triste, è triste e sta soffrendo tantissimo e noi sappiamo e comprendiamo quanto questo dolore sia un dolore che non si riesce ad elaborare. Ci stringiamo intorno a loro e pregheremo anche per loro ma nello stesso tempo vogliamo dire Francesco hai finito il tuo ciclo terreno ma resterai per sempre un angelo nei nostri cuori.